C'è anche l'Istituto Comprensivo di Sant'Arsenio, tra le 174 scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale che stanno partecipando alla rassegna delle orchestre verticali territoriali junior, aule armoniche e musiche di insiemi, che terminerà sabato 18 maggio. L'iniziativa, aggiunta alla sua seconda edizione, si sta svolgendo presso il Next di Capaccio e il Parco archeologico di Pestum Velia. La rassegna, promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stata ideata e coordinata dalla rete dei licei musicali e dalla rete delle scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale della Campania, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, patrocinata dal Comune di Capaccio Pestum e in collaborazione con i parchi archeologici di Pestum e di Velia. Essa vede coinvolte, oltre alle 174 scuole ad indirizzo musicale, 33 licei musicali, per un totale di 4.950 alunni e 300 docenti, con l'obiettivo di divulgare la cultura musicale tra i più giovani. Grazie. Grazie.